Buongiorno, sono l'Avvocato Manculto, si ricorda. Buongiorno, sono il Dottor De Petris, Tribunale di competenza di Varese, un ufficiale giudiziario. Buongiorno, sono il maresciallo Cristiano, guardia di finanza del comando di Pio. Chi capisce? Io per l'ultimo investimento ho dovuto chiedere i soldi da mia madre che ha più di cent'anni, perché io sono figliolo che studio a Venezia. Sono bloccato, non guarda, io fare un'altra cosa, ho due anni che non guido, perché sono completamente bloccato, non riesco a muovermi, perché sono quasi cieco, per cui ho qualche piccolo problema. Se non esce fuori la guardia di finanza, le bloccano direttamente il conto corrente. Grazie. Grazie.